buongiorno sono silvia paoli conservatore del civico archivio fotografico di milano fondato nel 1933 al castello sforzesco l'istituto conserva insieme a circa 700 mila fotografie originali datate dal 1840 ai giorni nostri anche l'archivio del fotografo paolo monti giunto in deposito dalla fondazione beic biblioteca europea di informazione cultura nel 2008 e comprendente l'archivio fotografico composto da 243 mila e passa fotografie stampe positive negativi provine chimigrammi datate tutte queste fotografie dal 1930 al 1982 anno della morte del fotografo comprende poi l'archivio anche l'archivio documentale relativo all'attività fotografica professionale e personale svolta dal fotografo tra il 1948 il 1982 inoltre anche la biblioteca con monografie periodici a testimonianza dei suoi interessi del suo percorso di formazione tutto l'archivio di paolo monti ordinato a suo tempo dall'autore è stato catalogato per via informatica e le fotografie catalogate per serie servizio sono consultabili sulla banca dati online del civico archivio fotografico www.fotografieincomune.it a conclusione dei lavori di catalogazione è stato intrapreso un ulteriore percorso di studi e di ricerche a partire dei documenti d'archivio che ha portato all'organizzazione di una mostra accompagnata da un catalogo con saggi apparati critici nel 2016 tenutasi al castello sforzesco paolo monti che tra i maggiori fotografi italiani del novecento sperimenta nei chimigrammi ne sono conservati ben 790 nel suo archivio datati agli anni 60 potenzialità espressive inusuali per realizzarli lavora esclusivamente il laboratorio con la carta fotografica e con reagenti chimici creando immagini astratte tracce impronte segni e quindi monotipi che riconducono la fotografia all'esemplare unico secondo un percorso di ricerca sulla materia la carta e le sostanze chimiche derivato dalla riflessione sui codici della fotografia ma anche con rimandi e non lontano dalle pratiche pittoriche contemporanee delle quali monti fu appassionato e attento indagatore all'attività di fotografo professionista iniziata nel 1953 dopo aver abbandonato una solida posizione come dirigente della Montecatini egli affianca una continua pratica sperimentale che costituisce una sorta di contraltare alla pratica fotografica lavorativa nella ricerca costante delle possibilità espressive della fotografia questa parte decisiva della sua di attività e non da essa disgiunta né secondaria fu da lui ridimensionata con un certo understatement in tardità come attività propedeutica a quella professionale vera e propria in particolare preparatoria necessaria al fine di imparare le tecniche di stampa ma in realtà è da considerare centrale nella sua esperienza tornando alle influenze artistiche va detto che il rapporto col mondo dell'arte fu per lui costante sia a Venezia città in cui lavora e fotografa sì dal 45 e dove non mancò di visitare le biennali sin dal 48 dove conobbe il gallerista carlo cardazzo fondatore della galleria il cavallino e il critico giuseppe marchiori sia poi a milano dove monti risiede dal 53 e dove continua a frequentare cardazzo e la sua galleria milanese il naviglio tra le molte amicizie frequentazioni gli artisti roberto crippa che lo aiuterà a inserirsi nell'ambiente milanese e a lavorare per le triennali gianni dova enrico bai lucio fontana milena milani oltre ad essi gli artisti dello spazialismo troverà propri riferimenti anche nell'espressionismo astratto nell'informale ma anche in fotografi americani come henry callan aaron siskind minor white che lo apprezzerà e ne promuoverà una mostra negli stati uniti o il tedesco otto steiner e il gruppo della subiective fotografie in italia monti segue anche va detto il lavoro di mimmo rotella con i suoi manifesti strappati e indaga nello stesso tempo le forme della natura soprattutto in val d'osso la terra d'origine esperienze entrambe che lo portano a studiare la forma nelle foto di muri e manifesti nello spazio urbano o nelle foto di legni rocce foglie nello spazio della natura aveva individuato proprio tra 48 e 49 la ricerca sulla forma attraverso la composizione nella natura morta come assolutamente primi preliminare per la fotografia che poi si dovrà rivolgere anche nella sua attività ad altri soggetti in primis l'architettura l'indagine sulla forma e sulle potenzialità espressive della fotografia lo portano anche ad accostare praticare la fotografia off camera e i fotogrammi sperimentati da molinoghi mray che consentono di indagare la potenza creatrice della luce e che rimandano alle sperimentazioni delle origini della fotografia in particolare a talbot e ai suoi disegni fotogenici la tensione sperimentale lo avvicina anche ad altri autori fotografi artisti a lui coevi qui solo citati per brevità come pasquale de antonis luigi veronesi franco grignani nino migliori l'importante l'importante presenza dei chimigrammi nel suo archivio attesta che fu tuttavia questa la via sperimentale off camera da lui più seguita la carta fotografica al centro della sperimentazione nei chimigrammi viene da lui vista come materiale vivo dirà come gli alchimisti parlano del mercurio quale argento vivo la carta fissa le immagini registra le tracce rivela impronte e segni con i chimigrammi ci riconduce all'esemplare unico uscito dalla cosciente violazione di tutte le norme tecniche sperimentare e quindi violare la norma conoscerla per poi infrangerla nella ricerca di un'autonomia di linguaggio della fotografia anch'essa individuata come forma espressiva al pari delle altre forme d'arte i chimigrammi sono da lui ottenuti facendo agire sulla carta rivelatori agenti chimici esponendo la carta più volte alla luce anche solare per ottenere toni bruciati tinte color ruggine che le assimilano dirà lui stesso a quadri e pitture intervenendo anche con spugne oggetti per delineare forme riconoscendolo come oggetto unico monti daterà e firmerà generalmente i suoi chimigrammi chimigrammi ripassiamo velocemente questo primo chimigramma è firmato 1960 1970 e la datazione probabilmente realizzato anche attraverso l'inserzione di un fotogramma alcuni appunto esempi questo è un altro firmato sempre negli stessi anni come dicevo risalgono agli anni sessanta il terzo che vi mostro è un chimigramma anche qui con fotogramma derivato da una felce quindi c'è un'impronta proprio come faceva Talbot a ricordare quei primi esperimenti che risalgono agli anni trenta dell'ottocento un altro chimigramma ricordo che sono 790 sempre firmato questo è del 1966 e anche questo che segue poi e si abbina a quest'altro sempre degli stessi anni entrambi firmati e che ricordano probabilmente anche con alcuni rimandi acquerelli e riflessioni dell'ultimo Morandi scarsamente considerati dalla critica contemporanea Monti i chimigrammi furono tuttavia valorizzati da alcuni importanti critici e storici della fotografia come la Franco Colombo che le espose alla prima mostra della galleria il diaframma nell'aprile 1967 dedicata proprio a Monti ma anche Antonio Arcari che li aveva pubblicati nella raffinata sperimentale rivista Imago due anni prima nel 1965 e il numero 7 aveva infatti inserito una cartellina con otto tavole fotografiche a colori dal titolo chimigrammi palomonti tra fotografia e pittura e così le aveva anche presentate sulla scia delle proposte avanzate da Weston e Siskind, Molinoghi e Menrei, Heinz, Hayek, Alke e la subiective il fotografo pittore ci presenta otto immagini nuove, uniche, irripetibili, preziose e infine come non citare Italo Zagner che a tre anni dalla morte di Monti tratterà la sua attività sperimentale nel primo profilo storico della fotografia italiana, la storia della fotografia italiana pubblicata dalla terza del 1985 inserendo quindi a pieno titolo queste sperimentazioni e quindi anche i chimigrammi nel solco della continua ricerca anche italiana di un'autonomia espressiva della fotografia. Grazie, vi ringrazio per l'attenzione.